In quanto disincarnati, cerchio il seno attraverso N.T. a cura di V.B. Alexander. Ricordate quello che fece Raggio? Lo avevate posto su un piedistallo. Non ci dovete porre sul piedistallo con un senso di venerazione. Noi siamo fratelli maggiori, con la conoscenza maggiore della vostra, con consapevolezza in quanto disincarnati. Ma non potete pensare che noi siamo delle divinità, capite?